Lord Raiden li ha salvati, ma non può combattere per loro. Sono infatti loro, un esperto di arti marziali, una star di film d'azione e un soldato, i tre prescelti. E mentre il destino del mondo è nelle loro mani, il resto di noi può solo godersi le emozioni dei loro combattimenti per salvare tutti noi nel Mortal Kombat, uno spettacolo fatto di violenti contrasti fisici, atmosfere mistiche e continui colpi di scena.